Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog di mia mamma che si chiama Sene Fernando. Ci è arrivato questo pacco e volevamo condividere con voi il regalo e vediamo cosa c'è dentro. Intanto io apro. No vabbè, Mario Strikers Battle of the League Football. È ancora sigillato però lo aprirò. Mario Strikers Battle of the League Football, è bellissimo. Qui ci sono tutti i personaggi di Mario. Mario e qui c'è la spiegazione. Nel frattempo io provo a giocarci. Questa è la scheda di gioco. Ci giocherò nella tv. Ma aspettate un secondo. Mamma! Vieni! Adesso che ho spiegato tutto. Ci gioco? Ci gioco mentre loro guardano o no? Non è un po'. Faccio una partita. Ma loro guardano? Ok, e come si fa adesso? E' un po' difficile. Quanto costa? Però voglio nella tv perché si sta scaricando. Hai detto quanto costa? E costa 52 euro. Mamma! Ho pagato io. Però posso giocarci nella tv perché è quasi scarico. Quanto costa? E questo è tutto. Ciao!